E' venuto il turno dei piccolissimi della Mini 65 in questa gara di colonnella One position per il numero 222 Riottini Che l'ho visto già stamattina alle prove, andava veramente forte Poi abbiamo tra le prime posizioni il Cenerelli dell'Orletta Questi sono i candidati a fare bene 15 secondi, eccoli che si concentrano 5 secondi al via, scattano via il 222 Subito Riottini prende il comando, tranquillo, non li ha visti nemmeno Temo una solo fino a fine gara Qualche ritardatario, sono sempre Questa è discesa come consumata perizia Quasi fosse uno navigatissimo Siamo tutti ragazzini da un'inizio E' un'eserata forte Grazie 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 Grazie.